Finalmente inizieranno i lavori che stiamo aspettando e sui quali abbiamo lavorato insieme ai tecnici del Genio Civile e della Regione da anni per ottenere questi finanziamenti. Visto i chiari di luna di questo periodo, il finanziamento di 250.000 euro non è una piccola somma. Sono soldi che verranno spesi per consolidare la zona di Bergotto e quindi sono soldi importanti che vanno a bloccare un dissesto che di tutta la zona, direi di tutto quel tratto lì, bisognerebbe intervenire con cifre anche molto più consistenti, però è bene fare bene questi lavori. Proprio per farli al meglio, venerdì 3 marzo alle ore 16 presso il ristorante Manubiola invitiamo i cittadini di Bergotto, in modo particolare quelli che hanno dei terreni nelle zone di case Baratta, di case Martinelle, vicino alla chiesa, perché i tecnici, il dottor Lopardo Luigi, l'ingegnere Magnani e Giuseppe illustreranno i lavori che verranno eseguiti e che partiranno a giorni.